Vino di topi, creste di gallo e tarantola fritta Questo è il ristorante più disgustoso della Germania Scherzo, in realtà questo posto è il Disgusting Food Museum E pagando 16 euro oltre a questa busta per vomitare Potrai ammirare i cibi più disgustosi del mondo Come questa zuppa di lucertola Pipistrello essiccato Vino di topi tipico fatto in Cina Succo fatto con gli occhi della pecora Bibita con qualche liquido di cavallo Liquore giapponese fatto con i serpenti Uovo con embrione cotto tipico delle Filippine Cresti di gallo tipiche della Francia, Repubblica Ceca e Italia Ma dove? Non li avevo mai viste Membro di toro Tartar di carne con uovo Abbiamo anche il cui roditore del Perù Nasi di maiale Zuppa di tartaruga Succo di rana e tantissimo altro ancora Insomma di tutto e di più Il museo è stato creato per farci riflettere su come il disgusto per il cibo Possa essere influenzato dalla cultura e dalle esperienze personali E vedi che ti vomiti Succo di rana e tantissimo